Marane e Catania insieme fino al 2015. L'accordo tra il club del presidente Pulvirenti e l'allenatore Triestino è stato sottoscritto alla vigilia di un match chiave per le ambizioni europee dei rosso-azzurri. La firma di oggi mette definitivamente fine a tutte quelle voci che avevano accostato il tecnico rosso-azzurro a diverse squadre della nostra Serie A e conferma l'assoluta convergenza su programmi e progetti tra il club Etneo e il suo condottiero che per il prossimo BM potrà avvalersi della collaborazione del suo attuale staff. Sempre oggi infatti è stato definito il prolungamento dei rapporti contrattuali dell'allenatore in seconda Christian Maraner, responsabile della preparazione dei portieri Enzo Biato, il collaboratore tecnico Pino Irrere ed il preparatore atletico Roberto De Bellis. Il rinnovo con Marane è stato salutato con soddisfazione dal presidente Pulvirenti che ha sottolineato la professionalità del tecnico. La squadra intanto nel pomeriggio a porte chiuse, dunque lontano da occhi indiscreti, ha approfondito le contromisure tattiche per frenare una laccia apparsa finora in seria difficoltà. Il recupero di Bergessio al centro dell'attacco coinciderà con il ritorno degli Etnei al 4-3-3, novità anche in difesa dove Bellucci sostituirà lo squalificato Spoldi. Grazie alla fiducia che poi mi è stata riposta ho trovato, come hai detto, tua continuità e credo di star facendo un buon campionato. Io fino a che scendo in campo do il 100% per questa maglia, come ho sempre fatto, e cerco sempre di fare il massimo per ritagliarmi le più presenze possibili.